Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Fabrizio Corona e la sua giovane fidanzata Sara Barbieri si apprestano a diventare genitori del loro primo figlio insieme. L'ex re dei paparazzi ha rivelato in un'intervista al settimanale Chi che la presunta data del parto è il 25 dicembre 2024. Sara si trova attualmente al quarto mese di gravidanza e la notizia del sesso del bebè un maschietto li ha colti un po' di sorpresa poiché sognavano una femminuccia. Il primo genito di Fabrizio, Carlos, ha reagito in modo estremamente positivo alla lieta novella. Il padre ha dichiarato che ora si godrà di più l'esperienza della paternità rispetto a quando era più giovane e aveva appena avuto Carlos. Il bambino in arrivo sarà un altro corona e Fabrizio si è detto felice che Carlos non sarà più solo quando il fratellino arriverà al mondo. Nonostante la grande differenza d'età, Carlos è entusiasta di diventare fratello maggiore. Attualmente ricoverato in clinica per un percorso comunitario dopo un malore lo scorso dicembre, ha ricevuto una serie di permessi che gli hanno permesso di partecipare ad eventi importanti come il compleanno del padre e la vacanza estiva in Sicilia. Fabrizio ha dichiarato che Carlos dovrà completare il suo percorso in clinica almeno fino a gennaio e ha espresso la speranza che la sua ex compagna Nina Moric si comporti bene nei confronti di lui e di Carlos. Fabrizio ha elogiato la dolcezza e la sensibilità.